L'Assemblea di Palazzo Lascaris in apertura della seduta del primo dicembre ha ricordato con un minuto di silenzio Rita Fossaceca, medico dell'ospedale maggiore di Novara, uccisa domenica 29 novembre nel corso di una rapina in un piccolo villaggio del Kenya. Il Consiglio regionale ha proseguito l'esame del collegato alla finanziaria 2015, effettuato alcune nomine di competenza, discusso e votato alcuni atti di indirizzo. In copertina! Il Consiglio regionale ha proseguito l'esame del collegato alla finanziaria 2015 della regione, arrivando all'approvazione dell'articolo 34 bis su 47. Fra gli emendamenti accolti, uno del Movimento 5 Stelle per estendere l'uso gratuito dei mezzi pubblici agli ispettori che svolgono i controlli in materia di sicurezza sul lavoro e uno di Forza Italia per far slittare di un anno i termini delle nuove procedure in materia urbanistica ed edilizia. Il Consiglio regionale ha discusso il primo dicembre tre atti di indirizzo sull'applicazione della direttiva Bolkstein al commercio ambulante. Approvato un documento del Partito Democratico che chiede alla Giunta di attivarsi presso il Parlamento per verificare la possibilità di non applicare i principi della direttiva europea alla disciplina del commercio su aree pubbliche. Bocciato un documento del Movimento 5 Stelle, sospeso quello di Fratelli d'Italia. L'inno La Gioia di Beethoven, simbolo musicale dell'Europa Unita, è risuonato nell'aula consigliare di Palazzo Lascaris al termine della seduta del mattino del primo dicembre. A eseguirlo è stato il coro giovanile Pequenia Tuellas che ha voluto in questo modo originale presentare il progetto Crescere in Orchestra, educare alla pace attraverso la musica, che si svolge nel quartiere falchera di Torino grazie anche al sostegno del Consiglio regionale. Grazie a tutti!